Salve a tutti signori e bentornati sul mio canale, anche oggi come ogni martedì andiamo a portare un piccolo spezzone del libro di Mario Attilieni che era l'impero delle Clessidre, ma oggi andiamo ad affrontare il capitolo numero 2 della Vendetta degli Unicorni, che è il secondo libro della trilogia. Oggi ci infittiamo un po' di più nella storia, nonostante siano soltanto degli spunti, delle highlights per incuriosirvi, e affronteremo una prima scena del secondo libro, La Vendetta degli Unicorni. Restate con me per le considerazioni finali. La Vendetta degli Unicorni, di Mario Attilieni E se è l'anello di Eva, il prossimo obiettivo osserdante, quell'occasione migliore? Andrò io a Bard a fare le veci di mia nipote, e voi verrete con me. Non arriveremo in tempo per l'incoronazione in questo periodo dell'anno, è complicato raggiungere Bard velocemente. Ma qualcuno da Ponte del Logos in rappresentanza di Zeugma deve andare, e perciò andrò io, andremo noi. È un'ottima idea, andremo a Bard, ti accompagneremo a omaggiare il nuovo re e poi vedremo cosa fare. Dante considerò che la situazione era troppo fluida e complicata, e non aveva molto senso elaborare piani di azione a lungo termine. Però, ragionò rivolgendosi ai tre cavalieri, Dobbiamo spargere la voce che non abbiamo noi gli anelli, che se ne è impossessato Lord Lodd, e che ci incolpa di nascondere chissà quali inganni. Sarebbe il colmo se andassimo a Bard per recuperare l'anello di Ebano e poi fosse Steiner il giovane, invece, a impadronirsi dei nostri. Difficialmente, Xirion, io verrò a Bard con te in quanto messo di porto profumato per chiedere aiuto al nuovo re nella guerra contro la Vassazia. Quella sera stessa li attese una cena pantagruelica in onore di tutti loro, ma, soprattutto, per festeggiare il ritorno a casa di Xirion. La lei di sua madre aveva ordinato che fosse servito il piatto tipico di Ponte di Logos, la trota color arcobaleno, in tutte le sue possibili versioni. Il pesce, in teoria, è più leggero della carne, commentò Sir Lorand alla fine della serata con la pancia che gli scoppiava. Sì, ma dipende come lo mangi, gli rispose sorridendo Achille. E quanto ne mangi, intervenne Sir Pilas, anche lui sazio fino alla nausea. A ogni modo, con tutto il vino che abbiamo bevuto dormiremo profondamente stanotte, concluse Achille che, mentre saliva le scale per andare al proprio alloggio, si rese conto di essere mezzo brillo. Il Bianco del Batis è un vino locale, non è famoso come il Rosso di Lugiai, ma a me è parso ottimo. No, commentò Lorand. E credo che sia piaciuto anche a te, amico. Alluse ridendo e mise una mano sulla spalla di Achille per dargli la buonanotte. Achille ricambiò il saluto dell'amico ed entrò nelle proprie stanze. Suo padre era salito già prima, lasciando i giovani a divertirsi, e stava dormendo placidamente. Il ragazzo sprofondò invece in un sonno agitato. Il cibo e il vino lo sballottavano in un dormiveglia poco piacevole. Alla fine, però, si ritrovò nel mondo dei sogni, e sognò una figura alta, un'ombra vaga e indefinita. L'ombra si allungò e poi ritornò a dimensione umana e nebulosa. Era una sagoma imponente, ma Achille non ne aveva soggezione. Non percepiva di dover averne paura. Al contrario, quella presenza lo rassicurava. A un tratto la nebbia si diradò dal volto di quella figura, e dall'ombra emersero prima la faccia e poi le spalle di Xirion Forel. Achille si sentiva tranquillo. Non era un incubo. Non sarebbe successo niente di male, niente di spaventoso. Xirion tirò fuori la spada come Achille lo aveva visto fare in combattimento. Il cavaliere la brandì contro qualcuno. Achille temette che la puntasse contro di lui, ma fu solo un attimo. Fu felice di ricredersi e si sentì di nuovo al sicuro. Nel frattempo la spada si era trasformata in un pesce, presumibilmente una trota. Cambiò di colpo scena e si ritrovò sulla riva di un fiume, presumibilmente il Batis, ancora in compagnia di Xirion. Sullo sfondo c'era il ponte, ma non era quello attuale, bianco, possente e bellissimo. Era il vecchio ponte di assi di legno dei tempi di Zeugma il Santo. Xirion pescò un pesce dal fiume. Guarda Achille, è la mia trota! Esultava soddisfatto il cavaliere. Ma non lo dire a nessuno. Resterà il nostro segreto, lo ammonì. Il nostro segreto, ripeté Achille meccanicamente e incerto, come per imprimerselo nella mente. Nel frattempo la trota si era trasformata di nuovo nella spada lunga di Xirion e il cavaliere la ripose nel fodero. Un giorno, forse presto, avrai anche tu la tua trota. Una spada tutta tua, gli disse Xirion. E sarà anche quello un piccolo grande segreto. Un piccolo grande segreto, ripeté di nuovo Achille senza capire. Mentre biascicava quelle parole, si rese finalmente conto di sognare e che forse le stava dicendo ad alta voce. Suo padre, che dormiva vicino a lui, avrebbe potuto udire. Ma fu il dubbio di un attimo perché subito tornò a dimenticarsi che stava sognando e Xirion era di nuovo di fronte a lui sulla sponda del batis. La trota e la spada e tutto il resto gli parvero di nuovo così irreali. Nel frattempo, il volto di Xirion era di nuovo emerso dall'ombra del sogno e gli si avvicinava. Se lo trovò davanti, si trasformò in un volto di donna. Fu questione di pochi istanti, poi in un lampo nero di luce infestò il sogno. Lo turbò irrimediabilmente, come un'angoscia improvvisa e apparentemente priva di senso. Era bastato un attimo perché il sogno si trasformasse in un incubo indefinito e incomprensibile. Achille sentì nel petto il respiro urgente di chi si sveglia di soprassalto. Nell'aprire gli occhi, quel viso di donna si dissolse, inghiottito in un gorgo di ombra e nebbia. Achille si ritrovò sveglio, con gli occhi sbarrati nell'oscurità, per cui un primissimo momento non distinse niente. Necessitò di alcuni secondi, forse venti, per realizzare dove fosse. Negli ultimi mesi aveva alterato notti all'addiaccio nei boschi, quando addirittura non in cella, a notti in palazzi lussuosi e ricchissimi. Il suo lievo di realizzare che era stato solo un sogno cedette subito il passo al fastidio di rendersi conto di essere completamente fradicio di sudore. Sulla schiena e sugli stinchi rimase alcuni minuti immobile nel letto, sconvolto e angosciato da qualcosa a tratti indefinito e a tratti molto chiaro. Solo dopo un po' si rese conto che aveva la gola secca. La salivazione gli si era completamente azzerata, come era accaduto il giorno in cui aveva baciato o emozionato la sua prima ragazza. Si mise incerto in piedi giù dal letto per cercare qualcosa da bere, ma non conosceva quella stanza buia. Notò un timido fascio di luna che lo condusse fino a un tavolinetto. Fece attenzione a versarsi nella penombra della notte dell'acqua in una coppa di bronzo. Si sedette su una sedia nei pressi e beve diverse volte ancora, fino a quando percepì di nuovo la sua bocca e la sua gola umide. Si limitò a rimanere immobile ancora alcuni minuti, a pensare a ciò che aveva sognato e a cercare al tempo stesso di non pensarci. Aveva bevuto troppo vino, pensò, anche se in quel momento si sentiva perfettamente lucido. Decise di uscire dalla camera a cercare aria. Gli sembrava di ricordare il percorso che Xirion gli aveva fatto fare quel pomeriggio, durante la visita al castello. Solo un paio di corridoi lo separavano dalla grande terrazza che dava sul ponte e sul batis, ma si ricordava male. Sbagliò direzione, confuso dall'oscurità e da quello che aveva per la testa. Mi sono perso. Realizzò tra sé dopo alcuni minuti che vagava senza riuscire a raggiungere la terrazza. Per cui decise di tornare indietro. Aprì la porta di camera sua, ma non era camera sua. La luce flebile di una candela si agitava come una piccola lingua di fuoco, rischiarando la sagoma alta e muscolosa di un uomo completamente nudo, girato di spalle. Quel sedere illuminato dalla candela apparteneva a Xirion Forel e Achille ne ebbe la conferma definitiva quando sentì una voce di donna proveniente dall'altezza del pube del cavaliere gemere quel nome. Magnolia, alzati adesso. Xirion la prese con la forza delle braccia e la gettò sul letto, prima di lanciarsi a sua volta. Achille istintivamente richiuse la porta scosso, nel timore di aver fatto rumore, ma i due amanti erano troppo occupati per accorgersi di lui. La complicità della notte tuttavia non era abbastata al giovane per passare inosservato. «Lascia l'impace, Achille!» Lo riconobbe una voce complice e benevola. Era una voce femminile. «Sono due anni che non si vedono. Lasciamoli in pace.» Lady prima perla. Tentò di essere deferente lui, anche se nel frattempo stava trasalendo sia per lo spavento che per l'imbarazzo. «Io mi sono... mi sono perso, mentre...» «Vieni!» rispose la fanciulla scintillando un accenno di sorriso così malizioso che il ragazzo riuscì a notarlo nel buio. Achille si lasciò trascinare per mano, una mano piccola e soffice, un tocco delicato e morbido. In alcuni secondi si ritrovò in un'altra ala del castello. Non ebbe il tempo di accorgersi che lei lo aveva condotto in camera sua. Quella stanza era quasi illuminata a giorno. Gli occhi di Achille furono colti di sorpresa, essendo abituati all'oscurità notturna. Prima perla gli stava di fronte, tenendogli entrambe le mani nelle proprie e lo fissava in volto con i suoi bellissimi occhi per vinca. Lui la fissò a sua volta. Erano così vicini. Lady stese le braccia bianche come l'atto, arrampicandosi sul suo collo, così che si ritrovarono naso a naso. Poi gli sorrise e lo baciò sulla bocca. Lo strinse più forte e lui strinse lei. Si ritrovarono i corpi attorcigliati in un abbraccio tenero e avvolgente. Achille sentì all'altezza delle costole il seno di lei che morbido si infrangeva nel suo torso e le accarezzò a una guancia con la mano mentre continuava a baciarla. «Vaci molto bene», disse lei. «Non l'avrei mai detto». «Come sarebbe a dire che non l'avresti mai detto?» Si risentì lui, quasi offeso. «Eh che mi eri sembrato così timido. Timido io. Mi piacciono i ragazzi timidi». «Allora sono timido», avrebbe voluto rispondere lui. Ma non disse niente. Nel frattempo lo stava spogliando e lui cominciò a fare altrettanto con lei armaggiando impacciato con la sua veste color salmone. Non ebbe il tempo di pensare che si ritrovò nudo sul letto. Sentì il fresco del lenzuolo di seta accarezzargli il sedere e la schiena. Prima perla fu subito sopra di lui e continuarono a baciarsi e accarezzarsi. Lui titubò per un secondo ma poi si scambiarono un sguardo complice e la ribaltò con decisione sotto di sé. Achille pensò tante cose, tutte in pochi attimi. Poi scivolò dolcemente dentro di lei. «È stato bello!» Si congratulò lei alla fine mentre rimanevano abbracciati. «All'inizio per un attimo mi sei sembrato un po' impacciato. Eri così dolce. Avevo quasi avuto l'impressione che fosse la tua prima volta». «La mia prima volta? Vuoi scherzare? mentì spudoratamente lui. A porto profumato ero pieno di ragazze». Ed eccoci tornati. La situazione si è un po' scaldata per il carissimo Achille che è, come sappiamo, il protagonista o meglio, uno dei due protagonisti principali che vengono dal mondo reale e si sono proiettati all'interno del libro. E nulla. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, i link sono in descrizione al video. Quello che posso dirvi è che intanto mi dispiace perché avevo promesso che ne avrei portati un po' di più o un po' più spesso ma purtroppo mi sono ammalato quindi ho avuto una certa influenza la scorsa settimana quindi ho calato un pochettino il ritmo. A prescindere da questo mi raccomando iscrivetevi al canale, andate a controllare il libro, comprate il libro «L'impero delle cresidere» e poi «La vendetta degli unicorni». Fate gli auguri all'autore da parte mia e niente, ci vediamo la prossima settimana sempre di martedì per un altro estratto. Questo giovedì non uscirà al trono di spade perché sappiamo che sono in pausa fino alla terza settimana di gennaio nonostante nel video abbia detto giugno. Comunque è gennaio quindi non preoccupatevi tornerà molto presto e uscirà qualche speciale a tema fantasy sempre. Quindi martedì prossimo con altri capitoli della vendetta degli unicorni andate al link in descrizione iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram per favore e seguitemi anche su Telegram e trovate tutti quanti i link in descrizione quindi non preoccupatevi saprete come trovarmi a prescindere avido alchimista su tutte quante le piattaforme. Ciao a tutti signori un abbraccione e buone feste!